Il precedente, tra l'altro molto recente, fa ben sperare, e il precedente si riferisce allo scorso 8 aprile, vinse il Cerignola all'Oscida, la decise contro il Crotone, per gli Ofantini, Michele D'Ausilio nel finale. Quasi cinque mesi dopo le due squadre si ritrovano di fronte sullo stesso rettangolo di gioco per il turno infrasettimanale della quarta giornata del campionato di Serie C. Momenti diversi per le contendenti, la squadra di Ivantisci si presenta in Calabria da imbattuta e dopo due pareggi consecutivi ha rotto il ghiaccio lunedì scorso al Monterissi battendo il Brindisi. Il Crotone invece ha perso le più recenti due partite in casa contro la capolista Turris, in trasferta a Francavilla Fontana contro la Virtus. Il valore degli uomini di Lamberto Zauli, nonostante gli ultimi passi falsi, resta però di prim'ordine per la categoria. Il Cerignola tuttavia vuole giocarsela senza atteggiamenti timidi. Dobbiamo cercare comunque di recuperare le energie per affrontarle al meglio, ma di cercare di andare a metterle in difficoltà, cercare di fare quello che sappiamo. Poi un grande rispetto perché ripeto il Crotone è una squadra che sicuramente ha dei valori importanti e noi col rispetto che abbiamo per tutte le squadre dobbiamo cercare comunque di far vedere che ce la vogliamo giocare perché deve essere nel nostro DNA, l'ho sempre detto, con grande equilibrio senza pensare che quello che è successo lunedì abbia risolto chissà con le problemi, ma è chiaro che può essere di buon auspicio e noi dobbiamo cavalcare quest'onda. Ci proverà il Cerignola, proverà a rompere il ghiaccio anche con la valigia da viaggio. Fischio d'inizio previsto alle ore 20.45, non ci sarà in attacco Vito Glioletti chiamato a scontare la terza ed ultima giornata di squalifica. Per il resto solo problemi di abbondanza per Tisci nella scelta dell'undici da opporre al Crotone dal primo minuto. Squadra che vince non si cambia, non è detto perché l'allenatore degli Ufantini dovrà giocoforza tenere conto dei tanti impegni ravvicinati. Lunedì prossimo, d'altronde, si torna già in campo per l'ultimo atto del trettico in otto giorni. Arriverà per la quinta giornata. La Juve Stabia al Monteresi.